Radio Flash e Flash TV, come te la godi questo festival di Sanremo? Bene, me lo sto godendo e basta. Qual è l'emozione di andare sul palco dell'Alison dopo tanto tempo e soprattutto ieri sera ti ho visto in splendida forma. Grazie, sono contenta e di essere andata bene anche perché la canzone mi piaceva un sacco e quindi mi sentivo molto tranquilla. Senti, tu hai detto che non faresti fare mai un talent da Montufiga. No, lo farei fare ma non da minorenne. Addirittura, grazie ancora, ciao e a presto.